Introduzione al canto gregoriano, un programma a cura di Giacomo Baroffio. Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Recentemente, da più parti, sono state sollevate obiezioni critiche all'uso del termine canto gregoriano. In base alle indagini storiche, è difficile attribuire a Papa San Gregorio la redazione e la composizione, soprattutto, delle melodie che vanno sotto il suo nome. Per cui oggi si parla di canto liturgico tradizionale, oppure di canto romano-franco, o vengono proposte altre denominazioni. Il fatto fondamentale è che il canto gregoriano riassume la vita della Chiesa, duemila anni di vita della Chiesa. E presenti nel repertorio gregoriano ci sono melodie di origine ebraica, melodie che affondano la radice nella cultura musicale mediterranea, e poi, venendo su nel tempo, melodie che hanno subito l'influsso, ad esempio, dell'ambiente romano, di quello africano, successivamente, delle culture transalpine e poi delle varie culture, che potremmo dire, nazionali, quella germanica, quella francese, quella italiana. È un susseguirsi continuo di interventi che fanno crescere il corpo del repertorio. Per cui qualcuno propone anche di dire canto liturgico, attribuendo poi una melodia a questo o a quel secolo. Ecco, quest'ultima proposta sembra di essere valida, ma praticamente può essere riferita solo ad alcune poche melodie che sono state composte, diffuse, dopo l'anno 1000. Ma c'è tutto il grosso problema delle melodie anteriori, e poi di melodie che sono state scritte in secoli successivi in imitazione di modelli antichi, precedenti. Io penso che bisognerebbe lavorare in modo pratico, sapendo che certamente, affermando l'espressione canto gregoriano, noi formuliamo una proposta impropria. Ma almeno riusciamo a capirci. Se cominciassimo a usare altre denominazioni, ci sarebbe il caos. Ad esempio, se io cominciassi a scrivere di colpo sulla bellezza, l'adeguatezza della musica al testo, nella messa di Papa Marcello di Pierluigi, qualcuno penserebbe a una nuova scoperta. Non tutti sono in grado di intuire immediatamente che Pierluigi è quel Pierluigi da Palestrina, noto come il Palestrina. Ossia, io comincio a parlare della teoria musicale di Guido Pomposiano, e poi espongo alcuni principi. Alcuni potrebbero pensare di avere un concorrente di Guido d'Arezzo. Ma Guido Pomposiano è Guido d'Arezzo. Il termine pomposiano sottolinea, ecco, il tirocinio, la formazione che Guido ha avuto nell'abbazia di Pomposa. Detto questo, possiamo individuare delle melodie che si possono riferire ad epoche precise, a istanze culturali particolari? Questo è vero soprattutto per le composizioni posteriori all'anno 1000, soprattutto per quelle posteriori al XII-XIII secolo, quando la documentazione, sia musicale sia letteraria, è più abbondante e ci fornisce quegli elementi che permettono di identificare l'origine dei brani introdotti nella liturgia in quel periodo. Un primo esempio di questo nuovo canto gregoriano è offerto da un'opera straordinaria, dall'ufficio ritmico composto dal frate francescano Giuliano d'Aspira, che muore verso il 1250. Egli ha composto un ufficio ritmico in cui tutti i testi, non solo quegli nodici, sono testi poetici, sono testi quindi che rispettano delle strutture metriche particolari, sono in rima, e Giuliano d'Aspira ha composto sia l'ufficio ritmico per San Francesco, sia l'ufficio ritmico per Antonio da Padova. L'ufficio ritmico di San Francesco è stato preso come modello per decine di altre composizioni liturgiche. In modo particolare, nell'ambito della famiglia francescana, l'ufficio di San Francesco ha fornito il materiale musicale per costruire l'ufficio ritmico di Santa Chiara. E di questo ufficio ritmico di Santa Chiara proponiamo un esempio nel responsorio Francisci Pia Plantula. Ecco, Santa Chiara considerata come la pianticella, fertile, devota, pia, che ha irradiato il francescanesimo e attraverso la parola di Francesco ha irradiato il cristianesimo, rinnovando un processo di evangelizzazione in tutta l'Europa. Ascoltiamo questo brano sapendo che il testo si riferisce senz'altro a Santa Chiara. La melodia riprende invece quella del primo responsorio dell'ufficio del poverello d'Assisi. di San Francesco di San Francesco In l'oreguli scivola, gloracum purmavi. 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 Un ulteriore esempio. Il libro che proponiamo fa vedere qual è l'espressività di un contesto spirituale che si rinnova verso il XII secolo, soprattutto all'interno della famiglia monastica cistercense. Questo amore appassionato verso il Signore viene messo in evidenza da un canto, il cui testo è stato attribuito a San Bernardo, ma di cui non conosciamo ancora né l'autore della musica e neppure l'autore dei testi. Si tratta di una forma innodica, cioè di una serie di strofe inneggianti a Cristo Gesù. Si tratta del canto «Jesu Dulcis Memoria». «Jesu Dulcis Memoria» 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'antifona che è stata elaborata in Francia e che ha avuto varie collocazioni liturgiche, prima di diventare il canto conclusivo della giornata che la comunità cristiana oggi eleva alla fine dell'ora ultima del giorno, alla conclusione della compieta. Salve Regina che solo in molti secoli ha avuto diverse recensioni, elaborazioni, ed è stata infine anche tropata, con l'aggiunta di vari elementi di cui proponiamo una esemplificazione. Ascoltiamo quindi la Salve Regina solenne, tropata. Salve Regina 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per i canti della Messa è stato incaricato lo stesso Giovanni Pierluigi da Palestrina di proporre una nuova redazione. E Palestrina si è messo all'opera con il collaboratore principale Zoilo e probabilmente altri discepoli. Ma venuto a mancare Palestrina si sono perse le tracce di questo lavoro. Il figlio, anzi, ha avuto una causa con le autorità della Curia, la quale Curia a un certo momento ha troncato le relazioni con la famiglia di Pierluigi da Palestrina e ha affidato l'incarico della revisione dei canti della Messa a un gruppo di discepoli, in particolare Anerio e Soriano. quando escono due tomi del graduale. le relazioni proprie dei singoli santi e poi formulare del comune dei santi. Dalla melodia restituita in questa edizione possiamo farci un'idea di quelli che erano stati i principi che hanno guidato la riforma musicale che si è fissata nel graduale mediceo. Un graduale che non è stato considerato però un'edizio tipica, edizio ufficiale. e ha avuto una vita abbastanza travagliata in concorrenza con altre imprese editoriali affini, parallele, ad esempio quella grande di Venezia, dove fiore di musicisti si sono impegnati nella riforma della linea melodica ormai corrotta nei codici e anche non fissata in modo chiaro nei pochi libri a stampa dell'epoca. Il lavoro di Anerio e Soriano riflettono una impostazione molto diversa da quella che è stata intrapresa da alcuni gruppi di studiosi di canto gregoriano dopo il concilio Vaticano II. Oggi, per semplificare le cose, si cerca di raggiungere la versione più antica possibile, la più vicina possibile all'originale. Allora è un lavoro filologico alla ricerca a volte di una situazione che non potrà mai essere conosciuta realmente, ma si cerca di fare almeno delle proposte ipotetiche per raggiungere quella che viene considerata la lezione autentica, la melodia così come dovrebbe essere perché era così in origine. È un ritorno quindi alle fonti primordiali del canto, secondo il rito romano. Ai tempi invece della riforma tridentina l'impostazione è stata totalmente diversa. Si è cercato di dare una veste contemporanea alle antiche melodie liturgiche. Non si è cercata la versione più antica, più originale, ma si è modificato il tessuto musicale delle fonti a disposizione perché corrispondesse la nuova musica al gusto del tempo. Il gusto del tempo è segnato da varie situazioni, ad esempio non solo il rispetto, ma direi in alcuni casi l'idolatria della parola, il che ha portato a due conseguenze molto frequenti nei due tomi dell'edizio medicea del 1614-1615. Un primo intervento. Sono stati spostati i melismi, i vocalizzi di abbellimento, sulla sillaba accentata della parola. Spesso i melismi si trovavano sulla sillaba finale di una parola. In teoria questo sembra contraddire il rispetto della dinamica verbale. E invece la collocazione di un melisma, di un abbellimento alla fine di una parola è l'unico modo per salvaguardare l'integrità del vocabolo e rendere comprensibile in modo adeguato la parola stessa. Invece una riforma fatta a tavolino ha fatto privilegiare l'ideologia, i principi astratti e gli abbellimenti sono stati anticipati sulla sillaba tonica. Un secondo intervento è stato quello di descrivere in qualche modo la realtà espressa dai vocaboli dei canti attraverso la musica stessa e interpretando in un modo soggettivo, non dico arbitrario, ma soggettivo il testo, i vocaboli che esprimevano Dio, la grazia, la luce, la salvezza sono stati posizionati in un ambito acuto, mentre tutto ciò che riguardava il peccato, l'inferno, il maligno, il male è stato tutto trascritto e trasportato al grave. Di questa dinamica vorrei presentarvi un esempio con il canto dell'introito «In nomine domini, omne genu flectatur» nella versione tradizionale che nell'edizio medicia prende poi la variante «In nomine Jesu, omne genu flectatur». E voi sentirete subito che «Celestium, terrestium et infernorum» nella redazione gregoriana paradossalmente la parola «celestium» è collocata leggermente più bassa rispetto a «terrestium» e soprattutto rispetto ad «et infernorum» mentre nell'edizio medicia «celestium» è posizionato sul «do acuto», «terrestium» sul «sol intermedio» e «t infernorum» raggiunge il «do grave». Ascoltiamo l'esempio. «In nomine domini, omne genu flectatur» «Celestium, terrestium» «Celestium, terrestium» «Et infernorum» «Subli species. Quia dominus factus obedience усque ad morte mobile Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.